Le truffe online di questi giorni ci preoccupano, fioccano infatti annunci di vendite immobiliari addirittura con licenze di comunicazioni di locazioni brevi. Va chiarito subito ai consumatori, a chi è interessato a questi immobili, che non vi sono licenze da accedere a meno che non vi sia una scia amministrativa di un'attività imprenditoriale come nel caso di affittacamere dove è prevista l'accessione del ramo di azienda. In tutti gli altri casi, B&B, case vacanze integrative del reddito, locazioni brevi, non vi è affatto nessuna possibilità alcuna di cedere nessuna licenza perché di licenze non si parla. È assolutamente indispensabile che i consumatori si rendano conto che quando incappano in questi annunci debbano verificare effettivamente intanto i requisiti strutturali dell'immobile. La convergenza di più norme che restringono il campo verso l'abusivismo e le speculazioni sta portando in questi giorni e settimane a soggetti che senza scrupolo vendono online immobili con pseudo licenze. Ecco perché abbiamo stilato un decalogo e cliccando sul sito www.abac.it o contattandoci direttamente al nostro whatsapp forniamo gratuitamente a chi è interessato a questi annunci di saperne sicuramente di più per evitare truffe. Abbiamo notizie di annunci anche oltre i 100.000 euro.